I fatti di Cremona mi hanno fatto riflettere molto e mi sono chiesta se ancora fosse possibile un tale scontro ideologico tra fascismo e comunismo. Lorenzo Ghetti, un ragazzo impegnato, collaboratore di For Life e facente parte di un collettivo autogestito di sinistra extraparlamentare, ha accettato di incontrarmi per darmi una sua opinione su questa tematica. Si è parlato tanto di Cremona facendo un processo alle colpe, ma mai si è toccato il reale problema che c'è ancora dietro? Diciamo che i fatti di Cremona, cioè l'aggressione fascista ad un militante del centro sociale Dordoni, hanno sicuramente destato l'attenzione improvvisa di tutti i mass media nazionali. Il problema qual è? Che poi tutti gli organi di informazione tendono a dare una versione dei fatti come se si trattasse di uno scontro tra opposte tifoserie, una sorta di derby calcistico quasi tra Livorno e Elas Verona. In realtà non sono così i fatti e appunto non si tratta più di pensare che siano scontri o che sia una realtà al di fuori della realtà attuale. Ma fanno parte purtroppo ancora della realtà. Esiste ancora il fascismo, perché il fascismo non è solamente quello del ventennio fascista, ma il fascismo lo trovi ancora oggi, sta nei manganelli della polizia contro gli operai di Terni. Il fascismo sta nella repressione, il fascismo sta nel processare Henry De Luca perché ha detto che la TAV va sabotata. Il fascismo esiste e io penso che sia una retorica nazionale quella che vuole arginare questa polarizzazione del conflitto tra forze antagoniste e forze della reazione. Perché io penso che in ogni ambito, in ogni angolo del mondo, in qualsiasi epoca, esisteranno sempre le forze della reazione e esisteranno invece le forze della rivoluzione. Com'è cambiata la concezione di fascismo e di comunismo nel tempo? Sono cambiati e non sono cambiati. Diciamo che le cose sono cambiate, sono cambiate le organizzazioni partitiche, sono cambiate anche per quanto riguarda la sinistra extraparlamentare o anche la destra reazionaria. Sono ovviamente cambiate. È vero che non sono più gli anni 70, non c'è più quello scontro di quel tipo, ma in una situazione come quella di oggi c'è la necessità che emergano proposte alternative al capitalismo. Perché oggi se c'è una crisi è la crisi del capitalismo, del sistema capitalistico. Riguardo appunto a fascismo e comunismo, non è tanto uno scontro tra fascismo e comunismo come se volessero richiamare i regimi del passato. Oggi essere comunisti o avere una lettura diversa delle realtà, appunto lo si può fare anche senza spartiti ideologici o comunque senza dover prendere come riferimento cose del passato. Però, ripeto, io penso che esisterà sempre questa contrapposizione che fa parte della realtà in cui viviamo. Perché ancora queste guerre tra fascismo e comunismo? Diciamo che c'è da fare un discorso soprattutto culturale che riguarda anche la nostra città o le zone di Mitrofe, come può essere la città di Predappio. Se dopo tanti anni oggi si possono tranquillamente entrare torme di fascisti per ricordare l'avvenimento della marcia su Roma, nello stesso giorno in cui nel 1943 fu liberata la città di Predappio, questo vuol dire che c'è un messaggio di tipo culturale ben preciso, ovvero che per motivi di ordine pubblico non si può manifestare e ricordare la liberazione dei partigiani, però si può, possono tranquillamente entrare questi squadristi che con una funzione nostalgica che però al comune sicuramente ha una funzione economica. Però il messaggio culturale è abbastanza forte, ovvero io penso che i valori dell'antifascismo, i valori della resistenza non possono essere coniugati solamente al passato, e liberarsene facendo una commemorazione il 25 aprile con tanto di parata, drappi colorati e bandiere tricolore. Io penso che i valori dell'antifascismo parlino anche all'oggi e definirsi antifascisti oggi non è assolutamente anacronistico, ma è un valore che una certa sinistra politica penso che non abbia più e che invece sarebbe bene ricordare.